ok buongiorno a tutti ragazzi e ben ritornati su questo nuovo video parleremo ok si è avverato quello che avevo detto raga ci sarà tipo una tempesta tropicale ma non direi proprio tempesta un tipo un ciclone tropicale che porta temperature primaverile e dopo un ciclone glaciale bella sorpresa da parte dell'inverno vero bello beh adesso vi hago una buona visione per il video e sarebbe bello finalmente l'inverno che piomba quest'anno di 2021 buona visione beh raga eccoci qui di nuovo nell'applicazione the world of the game map io ovviamente l'ho guardato nel medio infatti è vero ora c'è una piccola ondata di gelo una piccola poi dopo un ciclone che porta temperature alte verso 22 e si chiama ciclone tropicale e poi all'improvviso una botta glaciale ma nel mondo reale questo è il mondo virtuale per ora che vi sto mostrando allora ragazzi andiamo a vedere che cosa dice vediamo non dice ancora nulla dovrebbe dire qualcosa ragazzi a londig ah proprio così e dov'è la neve che aspettate raga time out appena c'è la neve vi faccio sapere ecco avete visto raga proprio qui il gelo mercoledì oggi siamo lunedì quindi il mercoledì dopo domani arriva tra domani nella notte già è arrivato ma prende l'himalaya e l'himalaya fa calare le temperature molto più sullo zero può ritornare anche sul 100 e si 100 gradi sotto 0 proprio al 100 raga e uno può morire di ipotermia con quel gelo raga beh allora c'è stato qualche bug forse perché dovevo mostrarlo le previsioni di oggi ora dobbiamo guardare le temperature allora l'everest qua è 50 gradi sotto 0 avete visto raga è sceso invece ieri era su 35 certo perché già un po' d'aria arriva 4 gradi sotto 0 su angry dragon 75 gradi che prima era 70 10 gradi anziché di 20 25 in isla nublar ci saranno 30 gradi sta scendendo la temperatura raga certo è arrivo dell'aria marittima della tramontana il vortice sarà ancora lontano però la sua aria arriva di quanto è potente per primo l'everest perché più alto di tutti come montagna e lo tsunami non si sa quando arriva ovviamente dopo l'impatto dell'asteroide che arriverà giorno 30 l'asteroide cadrà il giorno 30 e perciò raga che si deve fare qui intanto vi dirò questo il ciclone tropicale l'avete visto raga che cosa c'è questo l'avevo previsto prima ho fatto un'ipotesi ma no 50 gradi più o 50 gradi sotto 0 non è possibile le temperature andranno verso 20 massimo al sud ovviamente dove sono io e lì forse 20 la la sopra al nord lo stesso ecco visto quello il vortice polare se una tempesta glaciale quello il ciclone tropicale lo vedete in basso che tocca la sicilia e la sardegna e non si vede nemmeno l'africa quella macchia una mappa moderna è questa qui un po cambiata rispetto come è stato le altre volte guardiamo in proseguenza qui c'è il ciclone tropicale che prende tutta l'italia e il gelo è confinato al nord siberia polo nord norvegia prende e anche un po l'inghilterra nel regno tra la scozia poi guardiamo dopo che cosa c'è il vortice polare che arriva che prende tutta l'italia e anche un po l'africa perché questo si chiama il fenomeno strad warming vedete tipo l'alta pressione va nel polo nord e spinge il vortice polare che si spacca e arriva anche in europa beh questo è tutto raga dal video ok possiamo anche salutarci non ho le ipotesi che ci sarebbe stato un ciclone tropicale e e poi dopo un ciclone glaciale vi è piaciuto scrivete la camera quando mettete un bel like seguite su instagram e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti